Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi, domenica 7 aprile 2024, Corriere della Sera, le condizioni di Conte a Schlein, lasci i cacicchi, Emiliano Sudecaro ora direi altre parole, il caso, il leader 5 Stelle sia l'alleanza a Schmitt si candida a Firenze, Iran, i piani e le minacce, la vendetta è inevitabile, DEF, l'ipotesi rinvio per gli obiettivi su crescita e deficit, i conti in attesa delle indicazioni dell'Unione Europea. Andiamo adesso a vedere che ultimo, in lista viso scoperto, paura un po'. Andiamo adesso a vedere la Repubblica che titola Conte le condizioni al PD, mentre Salvini condono edilizio entro aprile, Landini, Marchetta, elettorale. Israele e Gaza, quelle vite cambiate in sei mesi di guerra e poi vediamo la grande festa del secolo di Scalfari. Andiamo adesso, passiamo a la stampa che titola oggi Voto di scambio a Torino, il pugno duro di Schlein. Dalle carte dell'inchiesta, la rete delle influenze, nuove accuse tra Demme e 5 Stelle, la segretaria chiede l'espulsione di Gallo a un passo indietro del figlio. Landini patrimoniale per salvarci dal debito, genio dell'economia, centri per l'impiego, l'intervento è urgente. E poi se la destra si lancia contro la Parcondicio, andiamo adesso a vedere Nucleare, Bettega in piazza perché dicono alle Scorie, Piacenza filiamo la lana da Galileo alle Top Model, interessante. Andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano che titola Larissa Schlein-Conte, il campo non s'allarga, le inchieste invece sì. A Torino indagato un altro Demme, il leader 5 Stelle, noi soli anche in Piemonte, con Elli soltanto se si libera dei cacicchi PD. E a Mediare arriva Bonelli, la distanza siderale tra cattolici e alti prelati, il voto dei credenti e poi la città e la malavita, gli incroci a Bari tra politici e clan. Preferenze, palude, serve una bonifica. E adesso andiamo a vedere qui sotto Stop alla ONG di Casarini, nave sequestrata in Porto. Andiamo adesso a vedere il giornale che titola Sopravvivere al terrore, Israele sei mesi dopo e poi altri voti comprati, il PD ha un problema, nuova inchiesta. Dopo Napoli e Bari, guai a Torino, Conte e Movimento 5 Stelle con loro, per carità. E poi il capitano si mostra in volto, dare in a cateno la triste fine di ultimo, che va con un partito che probabilmente non arriverà neanche al 4% e lui mette a rischio la sua vita. Per il partitello, sprint sul salva casa, decreto entro fine aprile, l'accelerazione di Salvini, accelerazione elettorale. Andiamo adesso a vedere se si apre il Fatto Quotidiano. Vediamo che si è aperta la verità. Speranza ha fatto lo scaricabiarile con i PM, l'ex ministro archiviato si è nascosto dietro l'EMA, ma allora almeno non faccia l'eroe. E poi vediamo il PD mise l'uomo dell'endrine a fare i controlli sugli appalti. Non solo Bari, corruzione elettorale in salsa, dem pure a Torino, blitz in Piemonte, 9 arresti, 29 indagati. Per l'accusa la sinistra aveva piazzato nell'organo per la legalità il referente della criminalità organizzata. E il RAS delle tessere chiese 50 voti in cambio di una visita medica. E poi vediamo nelle carte spunta anche il lobbista che sussurrava Enrico Letta e Fassino. E Conte segna a porta vuota tra i disastri di Elena Schlein, Giuseppi cannibale. E poi fermata la nave di Casarini, lui frigna rappresaglia. I dati regione per regione, tutti gli insegnanti aggrediti, minacce, botte, coltellate i prof, ma un 2024 da incubo nelle scuole in vigore la nuova legge per arginare un fenomeno gravissimo. E poi vediamo come rimediare alla tassa del mercato libero. Ma andiamo a vedere il libero quotidiano che ci dice cacicchi e riciclati PD regione per regione. questione morale, non c'è solo la Puglia, ecco i nemici del cambiamento. Scandali e sconfitte, 40 RAS locali che Schlein aveva giurato di cacciare gestiscono voti e affari. e andiamo adesso a vedere se è pronto c'è un po' di lentezza vediamo il tempo vediamo se è pronto il tempo no, questa è la prima pagina di ieri andiamo a vedere il messaggero danni da turismo, c'è la stretta, aumentano i flussi le città ricorrono alle tasse contro il fenomeno del mordi e fuggi dal 25 aprile, ticket di ingresso a Venezia Capri fa pagare chi sbarca Maxi ZTL a Firenze e poi andiamo adesso a vedere il sole 24 ore che titola Wall Street vede utili a più 3,2% Cina, Stati Uniti accordo sui colloqui per una crescita equilibrata e poi arredo verso il salone tra divani e puff e poltrone e poi l'esperto risponde welfare aziendale e fringe benefit e poi vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra un paio di ore grazie a tutti e ricordatevi che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete con video di politica poi questi video sono condivisi anche nella pagina di Facebook di Triaz di Twitter Linkedin e poi c'è il canale di Whatsapp e il canale di Telegram e anche poi su Linkedin e Pinterest grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti